Gli strumenti musicali di cura sono violino, pisarmonica, tamburello. Il violinista fa il barbiere, il tamburellista è contadino, il suonatore di pisarmonica mette i morti sotto terra, mette i morti sotto terra. Brantata si fa ragno, diventa il ragno che è in lei. Il suo pensiero si muta in ritmo puro e nel movimento quasi meccanico sorgono figure di liberazione, travolte però ancora da ombre disperate.